Ancora una sconfitta per il Salerno Basket 92 che cade anche nel derby contro il CMO Stabia Basket e resta malinconicamente ultima in classifica. Il finale è di 57 a 50 per le padrone di casa. Le Granatine hanno provato a reggere nella prima metà di gara, 14 a 11 il primo parziale, 25 a 19 il secondo. Poi però il calo fisico da parte di diversi atleti è ancora non al top della condizione, non ultima la Zorfanelli che in extremis è riuscita comunque ad essere sul parquet e ha visto l'allungo delle padrone di casa. Nel terzo periodo le Stabiesi dell'ex di turno Potolicchio quindi hanno premuto il piede sull'acceleratore portandosi alla mezz'ora sul 45 a 35 con Salerno che ha cercato in vano il sussulto d'orgoglio nell'ultimo quarto per rientrare in partita. Da segnalare però anche un errore tecnico della coppia arbitrale, a un minuto e mezzo dalla fine con Salerno sotto di 7 punti, rimessa a favore da battere dal fondo anziché da metà campo con l'episodio che avrebbe meritato altro sviluppo. Nulla da fare 15 con la gara che termina 57 a 50 con le granatine inchiodate al fondo della classifica con soli due punti all'attivo.